In questa emergenza Covid ci sono molte responsabilità gestionali del governo Conte ma anche dei presidenti di regione. Sentite cosa diceva quest'estate Michele Emiliano, governatore di Puglia. I contagi sono bassissimi e soprattutto noi speriamo che questa seconda ondata che si prevede per settembre-ottobre non si verifichi ma ci stiamo preparando per l'eventualità che questa situazione possa veramente verificarsi. Emiliano diceva ci stiamo preparando. Emiliano in estate consentiva l'apertura di discoteche, baliere, consentiva le sagre, le fiere e si vedono i risultati. Abbiamo varato il nuovo piano ospedaliero della Puglia con 1.255 posti letto in più raddoppiando le terapie intensive. Certo la curva come avete visto è una curva bassa, non ha un vertice violentissimo che mette in crisi gli ospedali. Gli ospedali adesso sono perfettamente in grado di gestire l'ondata ma in ogni caso a livello individuale questo virus fa male. Posti letto raddoppiati, dinanzi al Moscati c'è una tenda per i pazienti Covid, caro presidente Emiliano. E mancano gli anestesisti, anche quest'estate sapeva benissimo che il numero degli anestesisti era assolutamente insufficiente. E poi ci viene a dire che gli ospedali avrebbero retto l'urto? Presidente, non faccia il Pinocchio. Se uno è prudente rispetto alle regole non ci sono problemi particolari anche perché non potremo mai più chiudere l'economia della nostra regione. La nostra regione ha bisogno di lavorare. Che altra favola? Non possiamo chiudere l'economia. Lo spieghi ora ai titolari delle attività commerciali che hanno subito pesantissime restrizioni e chiusure. Tante favole, presidente Emiliano. La gente muore di Covid e i titolari delle attività commerciali muoiono di fame. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.